La forte crescita dell'inflazione è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questo 2022. In Italia i prezzi sono aumentati ufficialmente del 10,2% nei primi 10 mesi dell'anno, ma la realtà è che per molti risparmiatori, l'inflazione è salita fino al 17,1%. Ma quanto ci costa veramente l'inflazione? Abbiamo considerato 52 profili di famiglie e diversi di famiglie e abbiamo scoperto che l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo. Ragionando in termini assoluti quello che emerge è che l'inflazione può costare alla famiglia media dai 175 euro ai 335 euro al mese, una differenza piuttosto ampia. Inflazione percepita, ecco perché non è uguale per tutti, ma perché l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo? Perché non tutti i beni e servizi hanno avuto aumenti comparabili. Nella tabella sotto, nella quale viene riportata l'inflazione di ciascuna delle 12 componenti del paniere in stat nei primi 10 mesi. Di quest'anno, notiamo che i rincari vanno dallo stratosferico rincaro del 52,4% della voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Al calo dell'1,1% della spesa in comunicazioni, l'inflazione percepita è un indicatore utile a mostrare quello che si nasconde dietro il dato medio dell'inflazione perché, nella realtà, ogni famiglia ha le sue abitudini di consumo, il suo stile di vita e quindi il suo livello di inflazione. In base agli andamenti dei prezzi riportati qui sopra si può già facilmente intuire che le famiglie che concentrano la maggior parte delle proprie spese sui beni e sui servizi più irrinunciabili come l'energia e i prodotti alimentari subiscono inevitabilmente un'inflazione più alta delle famiglie che possono permettersi di diversificare maggiormente le proprie abitudini di spesa. Tra le 52 tipologie di consumatori analizzate, sono i disoccupati ad avere l'inflazione percepita più elevata, al 17,1%. Quando il capofamiglia è disoccupato l'inflazione agisce come una tassa occulta di 226 euro al mese per i lavoratori dipendenti, invece, l'inflazione percepita è del 12,1% e la spesa mensile aggiuntiva ammonta a 285 euro. Il grafico 2 spiega chiaramente perché disoccupati e lavoratori dipendenti si collocano agli estremi dell'indice di inflazione percepita. Se si guarda alla dimensione dei nuclei familiari sono i singola ad avere la peggio con un'inflazione percepita del 15,7% e una spesa aggiuntiva mensile di 195 euro. Ma quando a essere soli sono gli anziani la situazione purtroppo è ancora peggiore con l'inflazione percepita che raggiunge 16,4%. L'inflazione percepita è 175 euro la spesa aggiuntiva mensile. All'estremo opposto si collocano le coppie con due figli con un'inflazione percepita del 12% e una spesa aggiuntiva mensile di 298 euro. Oltre a categorie occupazionali e nuclei familiari, abbiamo anche preso in esame la dimensione territoriale in cui vivono le famiglie. Ed è emerso che l'inflazione percepita è più alta nelle aree metropolitane, dove raggiunge il 15,1% e comporta una spesa aggiuntiva di 288 euro al mese. Mentre le famiglie che vivono in piccoli comuni, sotto i 50.000 abitanti, hanno un'inflazione percepita del 12,8% ed una spesa aggiuntiva mensile di 226 euro. A livello geografico, infine, sono Liguria, 13,1%, seguita da Piemonte e Puglia le regioni italiane con la più alta inflazione percepita. In fondo alla classifica troviamo invece Umbria, Sicilia e Molise, 11,2%. Un acconto ancora più salato sui risparmi. Ma attenzione, se la storia è drammatica per quanto riguarda le spese, lo è ancora di P per quanto riguarda i risparmi. Insomma, come probabilmente vi sarete già accorti, l'inflazione può essere una tassa pesantissima che mette in difficoltà moltissime famiglie nella propria quotidianità e nella capacità di sostenere il proprio stile di vita. Ma il peso dell'inflazione si fa sentire anche e soprattutto per quanto riguarda i risparmi, si tratta di un effetto più difficile da cogliere ma non per questo meno rilevante. Con questi livelli di inflazione, infatti, il potere d'acquisto del risparmio è destinato a calare in maniera vertiginosa. Questo vuol dire che tenere i risparmi bloccati sui conti correnti vuol dire condannare il valore del proprio capitale a essere eroso. Purtroppo questo effetto è ancora più insidioso dell'effetto di breve termine sulla spesa, perché tende a accumularsi nel tempo e, sì, non si prendono le dovute contromisure da subito, quando ci si accorge di questa differenza sulle proprietà che potrebbe essere troppo tardi. Uno dei modi storicamente più efficaci per contrastare l'inflazione è quello di iniziare a investire con un piano di medio-lungo termine. Anche se la performance dei mercati può scendere o salire, la storia ci insegna che i mercati finanziari mediamente performano meglio dell'inflazione nel lungo periodo. Se hai troppi risparmi sul tuo conto corrente allora dovresti considerare di aprire al più presto un piano di investimento. Se vuoi scoprire senza impegno la proposta personalizzata di MoneyFarm ti basterà completare il breve percorso online. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti alla variabilità del mercato e possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito.